ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco acnicare san spf 30 a cosa serve acnicare san spf 30 a un parafarmaco appartenente alla categoria degli inestetismi cutanei viso acne cooperose brufoli eccetera è commercializzato in italia dall'azienda general topics srl informazioni commerciali titolare general topics srl concessionario general topics srl categoria di appartenenza inestetismi cutanei viso acne cooperose brufoli eccetera forma farmaceutica emulsione confezioni acnicare san spf 30 50 ml indicazioni emulsione viso con protezione solare alta per pelli grasse a tendenza acneica modalità d'uso dopo la detersione della pelle applicare salvo diverse indicazioni mediche almeno due tre volte al giorno massaggiando delicatamente sino a completo assorbimento descrizione e caratteristiche emulsione viso fine e leggera con protezione solare alta dotata di filtri in grado di diminuire l'incidenza delle radiazioni ultraviolette sia di tipo a che b spf 30 sulle pelli grasse a tendenza acneica avvertenze il prodotto contiene acido salicilico ad una concentrazione dello 0,2 per cento non utilizzare il prodotto in caso di intolleranza all'acido salicilico ai suoi derivati il prodotto ha controindicato in caso di soggetti affetti da salicilismo ha sconsigliato l'utilizzo del prodotto in caso di terapia con farmaci anticoagulanti prima di utilizzare prodotti per le pelli grasse a tendenza acneica a sempre meglio consultarsi con il proprio medico farmacista non utilizzare in caso di riconosciuta allergia ad uno dei componenti del prodotto salvo diversa prescrizione medica non utilizzare il prodotto in ragazzi di età inferiore ai 12 anni durante la gravidanza o l'allattamento qualora insorgessero fenomeni irritativi della cute consultare il proprio medico prodotto cosmetico per uso esterno applicare solo su cute integra evitare il contatto diretto con occhi e mucose tenere fuori dalla portata dei bambini componenti e ingredienti acqua water trietil citrate ceteari l'alcool dietilamino idroxibenzoilexilbenzoate etilexilmetoxicinamate octocrilene alcol denat metilene bis a eurobenzotriazole il tetrametilbutilfenol nano propilene glicol glicol palmitate arachidil alcol ceteari glucoside ciclopentasiloxane oligopettide 10 sodium ialuronate benzil pca dimeticone benil alcol arachidil glucoside xanthan gam butylene glicol decil glucoside c30 45 al chile ceteari il dimeticone cross polymer idroxietilacrilate barra sodium acrylo il dimetiltaurate copolymer scolane polisorbate 60 sodium idroxide fenoxietanol bht benzil alcol parfum fragrance fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo parafarmaco esaminato